Non sei nel posto giusto, lo senti. Ogni mattina ti alzi, ti vesti e vai al lavoro per dare il meglio. Ma non è il tuo posto e lo sai perché non ti senti vivo, perché non ti senti come loro. Loro che non capiscono il fuoco che hai dentro e la tua voglia di fare la differenza. Sempre. Vorresti guadagnare di più, ma soprattutto che venga riconosciuto quello che vali, vero? Vorresti un posto in cui crescere e diventare davvero qualcuno. Tu che ti guardi indietro solo per vedere quanta strada hai fatto. Dove eri? Dove sei? Ma oggi dove sei? Hai già quello che pensi di meritare o sei rimasto nel porto abbastanza per capire che non fa per te? La tua nuova avventura inizia oggi, non domani, non tra un mese. Oggi con te ci saranno decine di persone che vivevano la tua stessa sensazione e oggi ottengono risultati impensabili per chi vive nella routine, per chi timbra il cartellino. Ma non fraintendermi, non c'è nulla di male nel posto fisso, nello stipendio sempre uguale per tutta la vita, da quando inizi a vent'anni fino a settant'anni, nel fare sempre le stesse cose, tutti i giorni, sempre con le stesse persone. Per alcuni va benissimo, ma non per chi è come noi. Noi vogliamo un grande futuro. Noi siamo grandi agenzie. Sono Sara, facevo l'impiegata nella sede principale di grandi agenzie. Quando avrei dovuto firmare il contratto a tempo indeterminato ho capito che quella sedia e quella scrivania erano veramente troppo piccole per me. Proprio nel momento in cui mi si proiettavano davanti stabilità economiche contrattuali e in piena pandemia, ho deciso di dare letteralmente una svolta alla mia vita. Responsabile di filiale, era questo l'annuncio che avevo letto su un sito internet. Lavoravo in un ufficio tecnico, era un disegnatore meccanico da oltre tre anni con un bel contratto a tempo indeterminato. In quel momento decisi di mandare la mia candidatura. Mi chiamo Luca Cecchetto, sono in grandi agenzie dal 2016. Prima di lavorare in grandi agenzie mi occupavo di impianti audio e video e tutte queste cose mi portavano molto spesso lontano da casa anche per molto tempo e quindi ho deciso di cercare un lavoro che mi desse una stabilità migliore. Quindi ho mandato il curriculum. Non ho mai avuto un minimo dubbio sulla decisione che stavo prendendo perché vedevo tutti i giorni i percorsi di crescita dei miei colleghi. Forse la mia unica paura era quella di essere lasciata sola nel lavoro di tutti i giorni, ma così non è stato. Da quel momento la mia vita è cambiata tantissimo. Ad oggi sono titolare di due uffici a Parma e sono anche responsabile marketing all'interno di grandi agenzie. Ho fatto due colloqui. Al secondo colloquio mi hanno detto se ti senti pronto lunedì alle 9 ai inizi e quindi ho deciso di provare, ho salutato tutti e mi sono presentato. All'inizio la paura è quella di non riuscire. Ci sono dietro di me dei coach che mi formano e che mi danno le basi giuste per costruire il mio percorso. Poi grazie alla pratica, allo studio e la voglia di provarci sempre, ho ottenuto tantissime soddisfazioni. Soddisfazioni che ho ottenuto non solo per me ma anche come team, perché alla fine è questo che è Grandi Agenzie, una grande squadra dove tutti hanno un ruolo ben definito e un percorso e quando vince un singolo vince tutta la squadra. Oggi mi sono specializzato negli immobili del centro storico, nel settore degli investimenti e sono responsabile dei sistemi informatici di tutta l'agenzia, collaboro con l'ufficio marketing e da un anno da questa parte seguo la formazione di due nuove agenti. Se anche tu sei una persona ambiziosa, datti questa opportunità, non te ne pentirai. Questi risultati non sono frutto del caso e non sono frutto del talento, ma sono frutto di un grande lavoro, di un metodo brevettato e di un posizionamento unico. A differenza delle altre agenzie che si limitano a vendere casa, noi cerchiamo casa attivamente agli acquirenti. Abbiamo rivoluzionato il mercato immobiliare con il nostro metodo unico. Entrando in grandi agenzie avrai a disposizione tutto il supporto necessario per crescere e migliorarti, perché da anni siamo leader nel settore della formazione dei titolari di agenzie immobiliari con titolare top e questo che cosa significa? Che i nostri migliori venditori guadagnano 5-6 mila euro al mese e ciò comporta soddisfazioni e un entusiasmo che sono davvero impensabili per chi timbra il cartellino. E i nostri venditori medi? I nostri venditori medi dopo solo due anni di grande impegno guadagnano circa 3 mila euro al mese, ma tu non vuoi essere nella media, vero? Tu vuoi il massimo. I nostri migliori venditori erano come te, stanchi, frustrati, insoddisfatti, ma anziché abbattersi, hanno deciso di abbattere tutto ciò che li limitava. Sblocca il tuo potenziale e vieni a prenderti il futuro che ti meriti. Ti aspettiamo!